Tramite la scheda Ordinamenti e Subtotali è possibile definire gli ordinamenti e i subtotali che sono due fondamentali caratteristiche della griglia Risultato, specialmente per i report più complessi. Le righe che costituiscono il risultato del report vengono ordinate come default in direzione ascendente sulla base della prima colonna contenente un attributo. Ad esempio, in un report contenente Codice articolo, Quantità e Fatturato, i record vengono ordinate per codice articolo ascendente. Tramite le impostazioni inseribili all'interno di questa scheda, è invece possibile definire un ordinamento diverso da quello di default e salvarlo quindi insieme al report. Sulla sinistra della scheda Ordinamenti e Subtotali è presente la finestra Operandi, la stessa della scheda Campi, contenente le dimensioni e le metriche disponibili nel datamart. Per impostare un ordinamento dopo aver selezionato l'attributo o la metrica secondo cui si intende ordinare le righe, è sufficiente esportarlo nella finestra Accanto, Ordinamenti, utilizzando l'apposito pulsante. In questo modo comparirà una riga nella finestra Ordinamenti, sulla quale impostare la direzione dell'ordinamento ascendente o discendente. Spostando poi più di un elemento nella finestra Ordinamenti, si ottiene un ordinamento complesso di tipo gerarchico. Le righe verranno ordinate prioritariamente sulla base del primo campo presente nella lista. A parità di valore del primo campo verranno ordinate sulla base del secondo campo. A parità di valore del secondo campo verranno ordinate sulla base del terzo e così via. Per modificare l'ordine girarchico delle righe presenti nella finestra Ordinamenti, è sufficiente utilizzare i pulsanti superiori ed inferiore sulla destra della scheda. Per visualizzare il risultato del report secondo l'ordinamento impostato, è sufficiente invece cliccare su Esegui interrogazione della finestra dell'azione Documento, oppure cliccare sul pulsante centrale della pulsantiera. Ad esempio, se si crea un report contenente, Categoria Statistica Articolo, Codice Articolo e Totale Fatturato, lo si può poi ordinare per Categoria Statistica Articolo, Ascendente, e a parità di quest'ultima per Totale Fatturato, Direzione Discendente. Esiste anche la possibilità di inserire un ordinamento predefinito, che in sostanza utilizza gli attributi inseriti nel report, nell'ordine girarchico implicitamente dichiarato nella struttura del report, ciascuno ordinato in direzione ascendente. Per attivare l'ordinamento predefinito, è sufficiente cliccare sulla voce Ordinamento predefinito della casella delle azioni contestuali. Nel campo Numero massimo di righe, è possibile impostare il numero di righe che si vogliono utilizzare nel risultato di ogni specifico report. Per esempio, se si imposta un ordinamento discendente sul totale fatturato e se insirisce il valore 5, nel risultato del report verranno visualizzate solo le 5 righe che presentano il fatturato più alto. Quando il campo è impostato a 0, invece, nella scheda Risultato vengono visualizzate normalmente tutte le righe. Quando si inserisce un ordinamento, la selezione del campo Raggruppamento comporta una generazione automatica di raggruppamenti subtotali. Nel caso in cui nel report non sia inclusa nessuna metrica, viene automaticamente impostato un raggruppamento sulla base degli attributi considerati per l'ordinamento. Se nel report è inclusa almeno una metrica, l'opzione Raggruppamento dà origine all'impostazione automatica anche dei subtotali. Questi subtotali vengono calcolati su tutte le metriche incluse nel report e si basano sulle stesse funzioni di aggregazione con cui sono state create le metriche in oggetto. Quindi, se ad esempio la metrica inclusa nel report è il totale fatturato, viene creato un subtotale sulla base della funzione di aggregazione Somma. Selezionando il parametro esclusivo nella scheda Ordinamenti e subtotali è possibile poi visualizzare nella griglia Risultato e quindi anche nella scheda Stampa solo i raggruppamenti del report. Tale parametro modifica infatti la griglia dei risultati in modo che gli attributi non raggruppati non vengono inclusi nella griglia e nelle stampe. Se ad esempio si crea un report con Categoria Statistica Articolo Codice Articolo e Totale Fatturato la visualizzazione con il flag esclusivo sull'attributo Categoria Statistica Articolo sarà il seguente. Selezionando il report I subtotali sono delle righe aggiuntive che vengono inserite all'interno della griglia Risultato che rappresentano la sintesi di un gruppo di righe accomunate dall'identico valore di un attributo o di una metrica. Detta sintesi nella maggior parte dei casi si traduce nella somma del valore delle metriche contenute nelle righe dello stesso gruppo anche se la funzione di aggregazione può essere un'altra media, conteggio, devianza, ecc. L'inserimento dei subtotali deve essere eseguito all'interno della tabella che si attiva nella parte inferiore della finestra di lavoro dopo aver definito l'ordinamento ogni riga con i relativi campi inseriti in detta tabella rappresenta un subtotale. Il campo nome è il nome arbitrario del subtotale Il campo raggruppamento è un campo a selezione multipla in cui inserire l'attributo o la metrica per la definizione dei raggruppamenti Il campo aggregazione è un campo a selezione multipla in cui inserire la funzione di aggregazione somma, conteggio, media, devianza, ecc. che verrà utilizzata per valorizzare il subtotale in oggetto combinando tra loro i diversi valori della metrica definita nel campo successivo Il campo metrica è infatti il campo a selezione multipla in cui inserire la metrica sulla quale vengono calcolati i subtotali Se ad esempio si volesse inserire in una griglia risultato un subtotale con funzione di aggregazione di tipo somma per ogni categoria statistica articolo riguardante la metrica totale fatturata ordinata in direzione discendente la griglia risultato mostrerebbe la somma del fatturato per ogni aggregato di righe accomunate dalla stessa categoria statistica articolo La griglia risultato con subtotali viene mostrata di default con il minimo grado di dettaglio visualizzando le righe scure dei subtotali È comunque sempre possibile passare ad una visualizzazione più dettagliata esplodendo le righe di dettaglio Per ottenere questa visualizzazione è necessario posizionarsi sulla colonna su cui si basa il raggruppamento e cliccare sulle opzioni espandi il livello o espandi tutto da tasto destro del mouse Sopra la griglia in cui si definiscono i subtotali è presente inoltre il parametro calcola totale generale Detto parametro è abilitato di default su tutti i report anche per quelli sprovvisti di ordinamento e subtotali Il totale generale viene inserito nella prima riga della griglia risultato e in sostanza rappresenta l'aggregato di tutte le righe presenti Il valore numerico del totale generale che sintetizza i valori delle metriche di tutte le righe della griglia risultato può assumere diversi significati Se nel report non sono stati definiti i subtotali il totale generale è la somma dei singoli valori delle metriche di ciascuna riga della griglia risultato Se nel report sono stati definiti dei subtotali il totale generale utilizza come funzione di aggregazione dei valori delle metriche di ciascuna riga della griglia risultato quella definita nel subtotale In entrambi i casi il subtotale viene valorizzato aggregando direttamente tutti i valori di ciascuna riga della griglia risultato e non aggregando i valori di eventuali subtotali Se ad esempio si inserisce nella griglia risultato un subtotale con funzione di aggregazione di tipo media per ogni categoria statistica articolo riguardante la metrica fatturato sempre ordinata in senso ascendente la griglia risultato mostrerà per ogni aggregato di righe accomunate dalla stessa categoria statistica articolo la media del fatturato In questo caso il totale generale sarà rappresentato dalla media di tutte le righe presenti nella griglia risultato e non dalla media dei subtotali Ovviamente possono poi essere inseriti anche subtotali più complessi all'interno di griglie risultato con diverse metriche e con diversi livelli di aggregazione della griglia risultato e con diversi livelli di aggregazione